tu un grande bella a tutti i ragazzi siamo ritornati è sempre il mitico johnny con il mitico genio oggi questa ragazza che ci osserva è la mitica cesina 23 e che è avuto a mettere questo sfondo per cambiare quello del pc che non potrò mai più rimetterlo purtroppo allora oggi vi spiegheremo come scaricare zombies allora questo che cazzo dice lo può rimettere lo sfondo in testa non fa niente ci fa allora m oggi vi spiegheremo come scaricare zombies descrizione fare un cuore gandhi aram che ci ha fornito questo ah potete prevene qua se volete vincere 10.000 euro nel mese se non ho fatto un cazzo clic 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 preciso e allora vi metterò questo qui sotto in descrizione fate download standard da manocchino non siete dei nabbi nerd di merda premio fai da notte ma di te lo pietro che poi ti hanno chiesto adesso il con il mondo non è mai chiesto il link intanto c'è l'uomo di allora voi fate salva e vi salverà direttamente questo la cazzo è non ci sa non c'è bisogno di installazioni e gente infatti vi darà direttamente questa applicazione che voi potete direttamente aprirla e giocarlo ora aspettate un secondo ma forse ho detto una minchiata capito può essere che non è che lo so non è scaduto nonostante prima non è scaduto non è scaduto no non è anche l'idea roso non è in download ma se che vai su a parte la gente per fox non è un bello ai tuoi mi chiamo un'altra di e dai che bella non è verissima il boss lo dici te allora ragazzi per questo tutorial lunghissimo è tutto questa era che ti devi dare maroni questa era la difficoltà nel scaricare questo gioco voglio ringraziare tutti per i 18 iscritti ecco qui vai cazzo metti da parte della terza parte abbiamo diviso questo qui c'è il cazzo dico è il canale in playlist se avete consigli per altri giochi iscrivetevi sotto a questo video anche se vi è stato utile lasciate un bel pollice in su da D'amirico Gianni è tutto anche una luce in su vabbè ciao anche io saluto ciao ciao ciao